All'Accademia di Quantico, nelle vicinanze di Washington, ci sono due monumenti. Uno è dedicato a Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti d'America, l'altro al giudice italiano Giovanni Falcone. Con queste parole inizia il libro Giovanni Falcone, un eroe solo, scritto dalla sorella del giudice Maria Falcone e dalla giornalista Francesca Barra. Un ritratto inedito del giudice ucciso nella strage di Capaci, a partire dall'infanzia, passata fra partite di calcetto e canottaggio, fino agli anni più intensi e drammatici, quelli della lotta alla mafia e culminata nel tragico attentato del 23 maggio del 1992 in cui perse la vita insieme alla moglie e ai tre agenti della scorta. Beh, è stato un modo per poter rispondere a tutte le romande che i ragazzi in tutta Italia mi fanno nelle scuole. Siccome non posso andare in tutte le scuole, ho appuntamenti fino al 2014, allora ho preferito scriverle. Bisogna considerare che Giovanni rappresenta una specie di spartiacque tra una Sicilia che negava che la mafia esistesse e un Giovanni Falcone che porta al maxiprocesso 476 imputati. E' questo l'origine anche di tutta la sua solitudine. Nel corso dell'anno facciamo anche tantissime attività culturali e abbiamo voluto chiudere proprio il quadrennio con la presentazione di questo libro perché riteniamo che il Rogero di Lauria è stato testimone di tutto quello che è avvenuto nei suoi 110 anni di storia e quindi avendola vissuto vuole che venga conosciuta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.